Proseguono le vaccinazioni anti-Covid-19 nei vari hub regionali. L'Asl di Pescara intende aumentare le somministrazioni giornaliere, soprattutto nel grande centro di Città Sant'Angelo, dove lunedì scorso si sono riscontrate delle criticità. Lunghe code al freddo. All'abbè rientrato, nessun disagio per i cittadini. Il caos di lunedì è dipeso da un fraintendimento, precisa l'azienda sanitaria, visto che da inizio settimana anche nel centro di Città Sant'Angelo bisogna prenotare per effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid-19. L'idea è comunque quella di raggiungere le 2.500 dosi al giorno in questo hub. Ha fatto la terza dose? Sì, esatto. Tutto bene? Tutto bene, nessun problema di nessun genere. Soltanto il dolore è un po' al braccio, che è normale con l'azione del farmaco può darti problemi, ma si sapeva, era un fatto già acclarato. Senta, in questo centro, nei giorni scorsi, alcuni esponenti politici hanno detto che c'erano dei problemi per quanto riguarda le file, le attese, lei ha riscontrato queste criticità? No, a Don Ordelverdi direi di no. La realtà è questa, che è andato tutto nella normalità, almeno secondo me. Direi che è molto efficiente, c'è molta efficienza e organizzazione. Basta aspettare un po' e si fa. Ecco tutto. Si va avanti con i vaccini anche al centro di Porta Nuova a Pescara, dove la media è quella di 600 terze dosi al giorno. Da oggi possono prenotare la dose aggiuntiva o richiamo anche i maggiorenni che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Con questa nuova accelerazione della campagna si vuole contrastare l'aumento dei contagi e l'eventuale diffusione della variante Omicron anche in Abruzzo. Grazie a tutti.